E oggi andiamo a vedere cosa è Temu Benvenuti in Kiwi Bello a tutti ragazzi, sciocari Benvenuti e bentornati ragazzi Benvenuti, benvenuti in questo nuovissimo video Benvenuti anche nella mia bat caverna Kiwi caverna, come la volete, la chiamate Vabbè ragazzi, quindi oggi andiamo a vedere Il nuovo Temu, Temu, che cazzo è Temu? Temu è il nuovo Wish Aliexpress Ah sì, effettivamente Wish Aliexpress Hanno fatto a fusione ed è uscito Temu Capito? Quindi, e vabbè Comunque è un altro shop online tipo loro Che vendono cose a prezzi stracciatissimi Ultra stracciatissimi per i nuovi clienti Infatti andremo a vedere, ci saranno parecchie cose Tipo a pochi centesimi, un euro Poi magari la spedizione, ba-boom Però tu hai pagato 30 centesimi Con la spedizione a 50 euro Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so Lo andiamo a vedere adesso Ma non prima che, come al solito Ragazzi, lo sapete, già, lo sapete Non prima che, come al solito, vi siete iscritti al canale Attivate la campanella, mettete like, commentate E va tutto il coso che devi fare sempre Daglie, daglie, daglie Che oggi andiamo a vedere un po' Desta robetta Allora, andiamo a vedere che Oh, qui ci sta Quindi lo sconto del 90% Lo sconto del 90% Moooooo, e che Ho il 90% Andiamo a vedere le cose che ci sono Allora, vediamo Sono molto indeciso Su rimozioni pelucchi portatile Tappetino per WC Tappi Ma che, ma che robe E questo per spazzolare Per spazzolare la macchina E questo invece, vediamo Oh, questo lo devo provare ragazzi Questo me può, questo me può essere una cosa Interessante Vediamo, 2 euro e 28 E 2 euro e 28 Perfetto Primi giudizi della gente Perfetto Proviamo, vediamo che colore ci sta Argento, rosso, dorato, nero Vediamo 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 Nero Vediamo nero Vediamo Mettiamolo nero Mettiamolo A dita 1 Aggiunge al carello E 1 L'abbiamo aggiunto al carello L'abbiamo aggiunto al carello Sì Ah, selezione taglia Taglia 1 metro No, 1 metro 1 metro 1 metro Ci sta Allora, ha aggiunto al carello Ragazzi Oh, spedizione gratuita Bello, bello Ci può interessare Andiamo avanti Vediamo cos'altro 100 pezzi Sacchetto No, no, no Non mi può interessare E cos'altro ci può essere Vediamo Beh, effettivamente Sembra Sembra Tipo Wish Aliexpress Fatto proprio La stessa Cosa è su stampo Diciamo Però Vediamo Vediamo Com'è Vediamo Il supporto Per il telefono Vediamo Supporto Per il telefono Come che fa Questo Metti là Così E proviamo Proviamo Proviamolo 1 euro 1 euro e 90 Aggiunto al carello Mettiamoci tipo Un limite massimo Di 10 euro Vediamo Vediamo Con 10 euro Cosa riusciamo A prendere Quindi per ora Stiamo A quanto A quanto Stiamo Per ora Stiamo A 5 euro Per ora Stiamo A 4 euro E 26 Quindi Continuiamo A vedere Continuiamo A vedere Questo Che fa Il costo Del lavandino Mamma mia Questo Che è proprio Spaziale Proprio Sto Robo Qua Questo Che fa La La Multipresa Lacci Senza Lacci Senza Nodi Ma Perché Dovete Qualcosa Che mi Può Essere Utile Ragazzi Voi Scrivete Nei commenti Qua Sotto Se avete Trovato Se già Vi conoscete Questo Temo E se Ci avete Comprato Altre Volte Altre Cose Scrivetelo Qua Sotto Nei commenti Vediamo Cosa Che Mi Può Interessare Occhiali Da sole Polarizzati Lacci Di Scarpe Fosforescenti 68 Questa Raga È Proprio Una Tamarrata E Ovviamente Dove La Tamarrata Ci Sono Io Quindi Selezioniamo Il colore Il colore Mio Il blu Sono Fosforescenti O Sono Solaccio No Dovrebbero Essere Fosforescenti Dovrebbero Essere Altezza Vabbè Quella E Una Ce Nè Quindi Aggiungiamo Arcarello Poi Poi Andiamo A Vedere Questo È Il Cosso Occhiali Così Smartwatch Ho sempre Voluto Uno Smartwatch E Quindi A 2 Euro Io Non Ci Credo Ho Sempre Voluto Uno Smartphone A 3 Ho Sempre Voluto Uno Smartphone A 3 Euro Mettiamolo Nel Carello Uno Smartphone A 3 Uno Smartwatch A 3 Euro E Vabbè Mettiamolo Mettiamo Color Che Color Mettiamolo Color Grigio Che Dite Raga Grigio Questo Qua Questa 14 Euro Questo A 13 Cosa Che Sta 3 Euro Vedi 3 D Perché Ci Stava 3 Euro Era Il 3 Stessa Cosa Del Stessa Cosa Del Anche Gli Altri Mettono Il Prezzo Più Basso Del Cinturino Di 3 Euro Vabbè E Qui Giustamente Però Pur 13 13 Euro Vabbè Quindi Vediamo Vediamo Cosa Che Ci Può Interessare Cosa Che Ci Può Piacere E Vediamo Il Caricabatterie Da Auto USB Ci Mette Pure Lasagne A Cucinare Ci Attacchi Pure Lasagne E Funzionano Il Coso Degli Ambienti Questo La Spazzola Per Pulire Il Vetro Spazzola Pulizie Del Vetro Questo L'anello Che Ti Abbraccia Devo Dire Non È Che Vediamo Vediamo Cosa Ci Può Interessare La Luce La Luce L'anello Forma Di Aquila Questa Le Dopo Pop 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 Vabbè Sarà Una Frequenza Cardiaca Vedi Però Non è Chi Chiama Vedi 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 Fate Attenzione Non Ve Fate Cos'ha Subito Quindi Andiamo All'ultima Cosa Mystery Box La Mystery Box Proviamo Una Mystery Box Da 5 Euro Che Ci Sarà Dentro Così Magari Ci Esce Un Altro Video Quando Arriveranno 10 Ci Sono Vedete 10 Cose Casuali E Proviamo La Mystery Box Non Voglio Spoiler Non Voglio Spoiler Guardare I commenti Delle persone Aggiungiamo Al carello E quindi Vediamo Il carello Cosa ci sta Stiamo 9 euro E 42 Dovemmo arrivare A 10 euro Quindi qualcosa Da pochi centesimi Cosa ci può essere Da pochi centesimi Non so Quest'anello A forma di Aquila Che ti guarda Oppure Questa Porta Sigarette Ad anello La gomma Pochi centesimi Deve essere Cos'è Da pochi centesimi Ti è Io direi Che il Byte Lasciamolo Ai professionisti Diciamo Ti è Sta collana Tamarrissima Questa Che cos'è Sta cosa Qua La collana La collana Tamarrissima A 44 Centesimi Proviamo Lunghezza Lunghezza 40 centimetri Lunghezza 50 centimetri Sì Proprio Da Tamarro Color Argento Vediamo Argento 98 centesimi Dorata E Perfetto Aspetto 40 centimetri 40 centimetri Raga Proviamo Al 40 centimetri Argento Dorata Argento Se è Proprio La cosa Più Più Basic Diciamo E vabbè Quindi Siamo Siamo Arrivati A 10 Euro Raga Siamo Arrivati Ancora 9 Euro 86 Allora Andiamo A cambiare La Andiamo A cambiare La La Lunghezza Vediamo Argento Mettiamo 50 Mettiamo 50 centimetri E La famo Raga Che Dite Siamo Siamo Arrivati Questo Da Questo Da 44 La Togliamo E Siamo A 9 Euro 95 9 Euro 95 Raga Ma Per Poco Proprio Che altro Possiamo Più Da Pochi centesimi Raga Deve Uomo Cuore Tutti i match Vabbè Ci sta 38 Centesimi Mi Mi Entrerà Io ne Dubito Proviamo Proviamo Vediamo Proprio così Siamo Arrivati A Siamo Arrivati A Vede A Quanto Siamo Arrivati A 10 Euro E 33 Ragazzi 10 Euro E 33 Quindi Vediamo La prossima Chiudiamo Abbiamo 10 Euro E 33 Con Una Mystery Box Dentro Che Cianfrusaglie Mi Avranno Mandato Lo Scopriremo Nel Prossimo Video Quando Arriveranno Quando Arriveranno Qua Va Bene Ragazzi Voi Invece Scrivete Qua Sotto Nei Commenti Se Già Conoscevate Temu Se L'avete Utilizzato Che Cosa Vi Arrivato E Soprattutto Che Qualità E La Roba Che Vi Arrivato Va Bene Ragazzi Noi Invece Ci vediamo Al prossimo Video Mi Raccomando Iscrivetevi Al Canale Si Vediamo Al Prossimo Video Shagari Soprattutto